Musica Benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, giovedì 14 aprile 2016 questa è Fano TV, canale 17, buongiorno a tutti, siamo in diretta naturalmente un saluto a chi ci segue anche in replica cominciamo dal santo del giorno, oggi abbiamo una santa, Santa Liduina è una santa nata in Olanda e parliamo di una santa del 1380 il sole è sorto alle 6.25 e tramonterà alle 19.51 allora il tempo, oggi non abbiamo la pioggia di sabbia come è successo ieri mattina ieri doveva esserci il sole, invece la mattinata si è aperta in maniera un po' strana con un colore strano, un cielo carico di sabbia che poi ha scaricato qualche gocciolina mista sabbia appunto, giusto il tempo per sporcare terrazzi, macchine e quant'altro insomma comunque oggi avremo un cielo sereno al mattino qualche pioggia soltanto vedete nel centro delle marche, nella parte interna le temperature sono in diminuzione nei valori minimi, in aumento invece nei valori massimi per domani venerdì 15 aprile avremo cielo sereno poco nuvoloso e per sabato lo stesso, insomma il tempo, l'alta pressione garantirà giornate stabili soleggiate fino a domenica ha fatto molto discutere invece quel servizio che è stato mandato in onda dalla 7 all'interno di Piazza Pulita dove si è visto quel tubo di scarico chiamiamolo così per semplicità della piattaforma tanta preoccupazione anche da parte degli albergatori che giustamente si lamentano di quel servizio e altri invece si preoccupano i giornali questa mattina giustamente tornano su questo argomento che tanto interesse ha suscitato dopo la trasmissione e lo facciamo anche noi leggendo e approfittando appunto dei quotidiani e cominciamo dalla pagina di Fano del resto del Carlino le acque di Fano sono pulite, questa è la rassicurazione sul caso Trivelle replica l'ARPAM dopo gli allarmi sugli scarichi offshore l'ARPAM dice i campionamenti nelle acque balneari nelle acque balneabili vengono effettuati con cadenza quindicinale quindi ogni 15 giorni in 30 differenti punti dal mese di aprile a quello di settembre e i risultati li diamo in tempo reale sul sito dell'ARPAM questo significa che se ci fosse stato davvero l'inquinamento ARPAM avrebbe dato l'allarme perché questo fa dei mistieri quindi controlla e lancia allarmi quando è il caso di lanciarli e dunque vieta la balneazione in realtà questo non avviene, non è successo il che fa ben sperare troppo allarmismo su Facebook qualcuno lo ha scritto scrive il giornale e quindi insomma adesso staremo a vedere che cosa risponde il Ministro dell'Ambiente visto che comunque ricordiamo il Sindaco di Fano ha scritto subito e immediatamente per cercare di capire che cosa davvero accade a largo delle nostre coste dove ci sono le triveli le triveli che non ci sono soltanto a largo di Fano ci sono a largo dell'Emilia Romagna certamente qualcuno fa notare là sono accorti da questo punto di vista quindi se ne guardano bene dal lanciare certi allarmi o dall'intervenire subito per dire che là c'è o meglio ci potrebbe essere ci potrebbe essere qualcosa che non va mi riferisco all'Emilia Romagna che insomma ha come noi le trivelle a largo ha come noi queste strutture la Diocesi disse fedeli votate sì questo è il titolo del resto del Carlino sul caso Trivele dalla Diocesi di Fano infatti è arrivato l'invito a partecipare al referendum di domenica 17 e anche implicito anche se non lo scrive poi fa riferimento anche chiaramente all'enciclica di Papa Francesco l'ha dato sì eccetera eccetera dice implicitamente di votare sì l'altra pagina guardiamo sulle altre pagine del resto del Carlino fusione Aset nomina di Cespuglio incompatibile Udc e progetto Fano l'attacco sul CDA l'interessato si difende dice la questione è già stata verificata ce l'hanno sulla nomina di questo consigliere di amministrazione di Aset Holding Gianluca Cespuglio di una lista civica che è la Fano dei quartieri il giallo della stele mistero sull'iscrizione Mondolfo il reperto piceno ora va decifrato pensate risale a 5 circa 5 secoli prima di Cristo è una lastra in pietra usata come sedile in una casa di campagna chi poteva sapere che era una stele piccena risalente al VI secolo a.C. con iscrizioni ancora da decifrare ma di grosso interesse ci credo bene dal punto di vista storico beh questo adesso gli studiosi faranno il loro lavoro lapide di 30 chili invece cade da 3 metri nel cimitero una tragedia sfiorata il caso è successo a Sant'Andrea in Villis il proprietario spero che torni presto tutto a posto insomma davvero avrebbe potuto ammazzare qualcuno trattandosi insomma di questa di questa lapide di 30 chili che è caduta da 3 metri di altezza all'interno di questo cimitero poi a Pergola invece è stato fatto esplodere un bancomat in ospedale pazienti pensavano ad una bomba l'infermiera l'infermiera ha visto tutto ha visto soprattutto un'auto in fuga a Pergola anche effrazione per arrivare all'erogatore poi da Urciano invece le immagini la fotografia di un incidente di uno schianto uno schianto violento dove una ragazza e un uomo sono rimasti feriti e tutti e due sono finiti all'ospedale rapina da film attenzione la truppa adesso è finita nei guai nel 2012 registravano alla farmacia mare di Pesaro la polizia però non ha gradito questa scena perché tra l'altro insomma va detto che bisogna sempre avvisare le forze dell'ordine e avere un'autorizzazione particolare per girare queste scene un po' delicate soprattutto in luoghi pubblici in luoghi aperti non si può registrare o girare una rapina anche se finta senza avvisare la polizia senza avvisare la questura perché altrimenti si finisce col procurare con con l'essere accusati di procurato allarme tant'è che questo filmato amatoriale è costato caro questa troupe amatoriale d'accordo sono arrivati arrivati la questura è arrivata a serene spiegate la squadra mobile denunciò la produzione amatoriale gli attori hanno oblato assolto invece il cameraman Paola Mari racconta la vera farmacista Paola Mari questa fotografia racconta dice avevo appena reagito ad una rapina vera con lo spray così mi chiesero di fare un filmato poi sotto invece guardate questo è il tetto del tribunale di Pesaro questo qua il geometra comunale spaventato del lavoro sul tetto doveva seguire il cantiere e chiama gli ispettori ASUR però da anonimo poi quelli del tribunale hanno non è stato difficile per loro chiaramente risalire attraverso i tabuletti telefolici chi era questo qui che è questo signore anonimo che aveva chiamato per denunciare questa cosa e così è stato multato con 200 euro sotto forma di oblazione la pagina principale di Pesaro invece è con la fotonotizia questa qua che riguarda l'area di Pantano da questura a scuola questo è il titolo nell'area di Pantano acquisita per la sicurezza si cambia e quindi da questura diventa una scuola il sindaco dice pronti 2 milioni di euro per farci una struttura in legno campus niente fondi Inail e questa è la pagina di Pesaro del resto del Carlino andiamo adesso invece sul Corriere Adriatico la pagina di Fano eccola qua perdiamo tempo e milioni si parla della fusione Aset interrogazione urgente sui ritardi vogliono cambiare il progetto vedete qui da sinistra Garbatini Santorelli e Davide Del Vecchio Udc e Progetto Fano che temono che la holding Aset Holding punti a incorporare la multiservizi lasciando in vita le altre società poi anche qui si parla della incompatibilità nel consiglio di amministrazione di Gianluca Cespuglio che però che però smentisce oggi è la festa di Bianca Zandri che è la madre del professore Alberto Berardi che so che ci segue tutte le mattine quindi noi la salutiamo le facciamo vedere questa fotografia che la ritrae e naturalmente le auguriamo 101 ancora altri 101 di questi giorni perché oggi compie la signora Bianca pensate 101 anni davvero complimenti anche perché è ancora perfettamente lucida quindi insomma complimenti davvero e auguri allora andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico eccola qua anche qui il Corriere Adriatico torna sulla questione delle trivelle in mare e dell'inquinamento e quindi del servizio di piazza pulita il mare sporco è un danno all'immagine gli albergatori protestano dopo le ultime polemiche gli ambientalisti dicono cambiamo rotta reazioni diverse a questo video che documenta gli scarichi il sindacato dei bagnini tra timori e sviluppo economico addestato come dicevo all'inizio della rassegna stampa non poche preoccupazioni negli operatori turistici la trasmissione e il servizio di piazza pulita su la 7 questa è la pagina di fano del Corriere Adriatico poi profughi nel ghetto di Urbino 2 sollevazione contro la decisione di accogliere 25 migranti nel degradato quartiere di extra comunitari il sindaco di Urbino Gambini si difende e dice verifichiamo che gli alloggi a Ponte Armellina siano sicuri e adeguati ancora dalla pagina principale del Corriere via alla ristrutturazione dell'impianto Berti Sebastianelli presenta un progetto da 3 milioni di euro il comune garante dell'operazione con Carifano opposizione e società sportive contrarie alle modalità di finanziamento Nonni parla di unica soluzione la pagina di Fanno invece del messaggero eccola qui l'ASET si spacca con il centrosinistra l'ASET spacca il centrosinistra Seri dice l'alleanza non si discute la fusione tra le due società crea tensioni in consiglio e il voto diventa trasversale il sindaco non vedo scenari che mettano in crisi la mia maggioranza Santorelli invece chiede controlli più stringenti da inserire nello statuto della nuova holding si sospende la seduta poi che poi viene ripresa poi ancora sotto la notte rosa la notte rosa sarà la regina dell'estate il comune presente il calendario delle manifestazioni l'evento a Marotta contornato da tante altre sorprese chiudiamo velocemente con la pagina di Pesaro invece del messaggero eccola qui bocciata la scuola al campus il progetto è stato escluso per un soffio dal bando nazionale ma ricciva la carica al ministero annunciata la costruzione di una scuola media e una scuola elementare dove sarebbe dovuta sorgere la questura affermo nella comunità di Capodarco invece bomba alla chiesa di Don Vinicio ordigno rudimentale davanti alla chiesa di Don Vinicio Albanese presidente della comunità di Capodarco e ancora qui la stele Picena sequestrata nasconde un tesoro segreto il soprintendente dice a Mondolfo una necropole oppure un santuario sepolto pensate una cosa affascinante davvero strepitosa esercitazione antincendio invece paura tra gli studenti è stato simulato un incidente nella sede Asur di Viale Trieste gli allievi del corso per infermieri erano ignari completamente di quello che stava succedendo sono scappati fuori quindi come se fosse tutto vero ma come abbiamo detto per fortuna era una esercitazione questo è successo a Pesaro il sindaco Ricce è sempre in televisione ma questa visibilità dice lui è un bene per la città da Piazza Pulita da Gorà tanti impegni per il figio presidente nazionale del Partito Democratico i grillini accusano presenzialismo televisivo e assenteismo in città fusione con il comune di Monbaroccio ultime assemblee assemblee prima del referendum ce n'è una credo anche questa sera nella città di Monbaroccio poi ce ne sono tante altre di notizie che potrete leggere sui quotidiani che come sempre vi aspettano nella vostra edicola di fiducia la nostra invece quella virtuale la chiudiamo qui la riprendiamo domani mattina come sempre puntuali alle 7.30 grazie per averci seguito vi ricordo stasera il telegiornale e poi la prima puntata da non perdere in diretta con Marche Salute scusate Missione Salute Marche Nord istruzioni per l'uso Marche Salute scusate Missione Salute ormai ormai è così Missione Salute invece Missione Salute è un programma che parte questa sera la prima puntata è in diretta conduce Lino Balestra ci sono degli ospiti tutte le settimane ogni giovedì sera dopo il telegiornale ci saranno degli ospiti ci saranno i medici ci saranno i primari ci saranno i medici che trovate nei tre ospedali di Marche Nord vale a dire Santa Croce di Fano San Salvatore di Pesero e a Muraglia la prima parte sarà un programma dedicato nella prima parte di questo programma parleremo del reparto questa sera per esempio del pronto soccorso e poi daremo spazio alle vostre telefonate quindi se avete domande da fare chiarimenti del lucidazione questa sera parleremo del pronto soccorso ma poi parleremo di tutte le cose che riguardano la nostra salute dai tumori a tante altre patologie e altre problematiche quindi un appuntamento che è importante vi invito a seguirlo questa sera in diretta poi come sempre sapete come fare per chiamarci il numero lo conoscete già 0721 86 14 33 quindi vi aspettiamo con Missione Salute buona giornata a tutti a tutti